Omicidio Vizzini, nei guai quattro giovani, il PM si appresta a chiedere rinvia giudizio immediato. Stefano Di Maria e Sebastiano Romano sono detenuti nella casa circondariale di Cavadonna, mentre Massimiliano Quartarone e Giuseppe Terzo sono tuttora restetti in due carceri del nord Italia, il primo nella casa circondariale di Vercelli e il secondo nel sud penitenziario di Genova. L'agguato avvenne la sera del 16 marzo scorso in via De Santis a Pachino. Corrado Vizzini, detto Marco Otto, la guida del proprio ciclomotore si stava dirigendo verso casa in quanto entro le ore 21 doveva rincassare come disposto dai giudici che lo avevano sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. La dichiarazione di morte fu decisa nel corso di un summit durante il quale Massimiliano Quartarone si sarebbe lamentato del gesto intimidatorio posto in essere nei suoi confronti da Corrado Marco Otto, scaduto da contrasti per traffico di sostanze stuprofacenti. L'uomo fu centrato da un proiettile allo stomaco, il risultato quello mortale, e da un'altra pallottola al braccio, mentre gli altri due proiettili esplosi dai killer sono andati a vuoto. Trasportato all'ospedale di Maria di Avola, il malcapitato Corrado Vizzini è deceduto a distanza di dieci giorni dal ricovero per le grave lesioni interne provocate dalla pallottola penetrata allo stomaco. In seguito al decesso di Corrado Vizzini, il pubblico ministero Caetano Bono ordinava il fermo dei quattro pacchinesi, tutti ingoternati dalle telecamere la sera della guado e già tutti invitati negli uffici del commissariato della Polizia di Stato di Pacchino per essere sottoposti a sommarie informazioni testimoniali e per essere sottoposti alla tampon kit, che però è risultato negativo. Mentre Di Maria e Romano venivano fermati a Pacchino, i loro complici Massimiliano Quartorone e Giuseppe Terzo venivano fermati il primo a Vercelli e il secondo a Genova, dove si erano rifugiati presso parenti dopo essersi allontanati nottetempo da Pacchino. Le difese dei quattro pacchinesi ritengono che ci siano delle falle nel mosaico omicidiario. Rosalini, il 62enne, viola la misura cautelare cui era sottoposta al restante dai carabinieri. È un gioco da ragazzi evadere la misura restrittiva degli arresti domiciliari. Lo scorso anno è stato sorpreso fuori dall'abitazione associato presso la casa circondareale di Capadonna. Ieri l'uomo è stato acciuffato dai carabinieri della locale stazione che lo hanno tratto in arresto in attemperanza all'ordinanza di aggravamento di misure cautelare messa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa. Vincenzo Cassarino, 52enne, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, è attualmente sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Cassarino ha infatti ripetutamente violato la misura alla quale era sottoposto in ultimo nel mese di giugno continuando ad operare violazioni agli obblighi connesse alla misura imposta. Pertanto è stato tratto in arresto e espletate le formalità di diritto tradotto presso la casa circondareale Capadonna di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria Aretusea.